Grazie al lavoro sinergico dei carabinieri di Ortona, Fossa Cesia, Chiechi e Vittorio Veneto, coordinati dalle procure di Lanciano e Treviso, è finito in carcere l'uomo che lo scorso 12 aprile ha aggredito nei pressi del casello autostradale dell'A14 di Rocca San Giovanni il suo socio in affari nei confronti del quale aveva accumulato un debito di decine di migliaia di euro. I militari dell'arma, come hanno spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa il maggiore Roberto Ragucci, comandante della compagnia di Ortona, il maggiore Marcello D'Alesio, comandante del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti e il tenente Giuseppe Lambriola del norme di Ortona, sono riusciti ad identificare e ad arrestare con l'accusa di tentato omicidio Antonio Fiabane, 51enne residente a Pieve di Soligo, per l'aggressione di un 56enne originario di Termoli ma da anni domiciliato a Vasto. I due, per parlare del debito da saldare, si erano incontrati nei pressi del casello autostradale dove il trevigiano, giunto alla guida di un furgone, aveva invitato il 56enne a prendere un cartone di vino che gli aveva portato. Appena aperto il portellone e chinatosi per prendere il regalo, la vittima è stata aggredita alle spalle e colpita più volte con scariche elettriche di una pistola e poi legata ai polsi con fascette da elettricista. L'aggressore però non è riuscito nell'intento di spingere il suo socio in affari all'interno del furgone poiché il 56enne di corporatura molto robusta ha reagito e nel frattempo alcune persone stavano andando in suo soccorso. A quel punto Fiabane è fuggito ma è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione in provincia di Treviso e ieri è stato arrestato e condotto in carcere. Come siete arrivati ad individuare l'aggressore? Sulle tracce dell'aggressore sin da subito ci ha messo la vittima riferendone anche se in maniera parzialmente errata il cognome e il numero di telefono per cui è stato diciamo abbastanza semplice risalire all'esatte generalità, all'area di provenienza che è appunto la provincia di Treviso e all'esatta localizzazione attraverso il telefono cellulare. Sono state già nelle ore immediatamente dopo l'aggressione raccolte una serie di elementi di prova tra cui il furgone utilizzato per l'aggressione, gli abiti sporchi di sangue, le fascette da elettricista che l'aggressore aveva utilizzato per immobilizzare la vittima e che appunto hanno poi consentito l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare. Grazie a tutti.